Si è riunito all'osservatorio delle crisi idriche presso l'autorità di bacino distrattuale del fiume Po a Parma e abbiamo dato una tendenza e uno scenario di criticità media con precipitazioni. Infatti abbiamo visto che nel mese di aprile e all'inizio di maggio il Po ha una portata media che è circa il 40% al di sotto della media degli ultimi 20 anni, quindi questo ci preoccupa in un momento così delicato in cui iniziano tutti i prelievi per l'agricoltura. È prevista pioggia nei prossimi giorni e quindi noi faremo una nota sintetica fra 15 giorni che trasmetteremo ai portatori di interesse dell'osservatorio e queste previsioni se ci saranno diminuiremo ovviamente la tendenza e lo scenario, altrimenti dovremo porre delle azioni molto importanti come invasare tutti i laghi, avere una maggiore acqua nei laghi alpini perché altrimenti potremo avere delle ripercussioni negative nell'habitat, nella falda sotterranea ma soprattutto nella mancanza di energia, cioè nella mancanza di idroelettrico e di crisi nell'idropotabile. Quindi queste azioni sono necessarie, sono molto importanti e l'osservatorio deve seguire un monitoraggio attento dei big data e di tutte le conoscenze sulla risorsa in tutto il distretto.